salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo video andremo ad affrontare la missione secondaria cerco esperti in codici di accesso la missione comparirà in bacheca e potrà essere accettata solo ed esclusivamente dopo aver trovato uno dei codici uno qualunque dei codici sparpagliati nel gioco i punti che dovremo raggiungere sono in tutto 7 6 per i codici e 1 per riscuotere la ricompensa il primo codice possiamo raccoglierlo durante la storia su matrix 11 se per caso lo perdete potete comunque tornare in seguito a riprenderlo tre codici si trovano nel vasto deserto e gli ultimi due si trovano nella landa e nella landa si trova anche la nostra ricompensa il costume è un nuovo outfit un nuovo costume per la nostra eroina vi lascio alla visione di tutta la missione di tutti i codici grazie a tutti per la visione vi auguro una buona giornata altissima 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti